Buonasera amici di Milanello, amici rossoneri, appena terminata la partita Salerno-Ritana-Milan con il risultato di 2-2. Non siamo riusciti purtroppo a prendere i tre punti, fa male perché era importante e necessario riuscire a vincere questa partita. Torniamo via da Salerno con un altro infortunio muscolare, Tomori. Tomori che già giocava con Simic come compagno di reparto in virtù dell'infortunio però di scarsa entità di Kier che però gli provocava un po' di fermento di testa. A un certo punto Tomori si fa male e è costretto a uscire. Siamo in emergenza piena. Una partita che per la prima parte del primo tempo l'avevamo impostata bene, attaccando dall'inizio. segnando proprio con tumore di testa, non realizzando il secondo gol, benché ne abbiamo avuto le occasioni, ma questo ci capita molto spesso. Poi la Salerno-Ritana sale, si fa pericolosa un paio di volte, Mignan si fa trovare pronto e reattivo, però alla terza o quarta occasione poi riesce a segnare con un colpo di testa di Fazio su calcio d'angolo. 1-1, meritato sinceramente secondo me il pareggio, poi si rientra, la partita si fa un po' strana, molti contropiedi e quant'altro. Papera di Mignan, lo so che non siamo abituati a dirlo, ma stavolta è così, e Candreva con un tiro da posizione defilata fa il 2-1. Poi una girandola di cambi, si gioca con le due punte negli ultimi 20 minuti, Jovic segna il 2-2. Sottolineiamo un grande portiere da parte della Salernitana che fa diversi interventi notevoli, come sempre alcune gestioni dell'ultimo passaggio quantomeno da rivedere per noi. Il fatto sta che andiamo sul 2-2, ci rimaniamo sul 2-2 e anche questa non si è vinta. Peccato, andiamo a questa sosta con un po' di amaro in bocca, era una partita da vincere chiaramente e anche stavolta non ci riusciamo. Dispiace amici, ci sono sicuramente degli aspetti positivi, Ben Nasser che parte dal primo minuto, un grande Ben Nasser, probabilmente questo era il centrocampo nostro più forte con Ben Nasser, Reinders e Loftus-Cheek. Buona prova di Ben Nasser che gioca una sessantina di minuti. Buone anche altre prove individuali, però niente, si va a letto con l'amaro in bocca. Purtroppo, però amici, guardiamoci questi giorni di relax, stiamo sempre a orecchie dritte per le evoluzioni della situazione societaria, che chiaramente ci interessano molto, ci distraggono anche un po' dal calcio giocato, ma è giusto che sia così, vista l'importanza di queste indiscrezioni. Siamo sempre sul pezzo amici, continuiamo a spingere forte per la nostra squadra. Buone vacanze, ci sentiamo presto. Un abbraccio a tutti e Forza Milan.